Se sei un utente sordo, cieco o hai gravi e riconosciute limitazioni della capacità di deambulazione, hai diritto a uno sconto del 50% sull'offerta di rete fissa e su selezionate offerte di rete mobile. Sono queste alcune delle misure previste dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni Agicom per agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi telefonici e Internet agli utenti con disabilità. Per saperne di più, visita il nostro sito o quello del tuo operatore. Agicom per l'Italia digitale. Grazie a tutti.